Allora ragazzi, volevo dire questo, che noi italiani siamo un po' frutti, siamo un po' come dire che non stiamo tanto bene, siamo un po' tristi, frustati. Allora, il problema di questo fatto è i politici. Quindi, chiedo per favore, Francesco, te la senti di lasciare il comando di Villastellone, vi darlo Nicco? In modo tale che il gruppo a noi di Villastellone sembra più essere gestito e insegnarci a non essere frustati a star bene con tutti, te la senti?